Sicuramente nel primo tempo dovevamo essere più incisivi, abbiamo sbagliato troppo gli ultimi passaggi e abbiamo attaccato la porta, dovevamo attaccare la porta con maggiore decisione. Credo che non ci siano dubbi che la partita l'abbia fatta la Lazio, sia nel primo tempo sia nel secondo tempo. Il Milan è stato molto bravo, il Milan ha grandi meriti perché ci ha colpito nei momenti decisivi della gara e ha sfruttato a pieno, credo, le uniche tre occasioni, gli unici tre tiri in porta che ha fatto in tutta la gara. Quindi grandi meriti al Milan, dei meriti nostri perché in queste situazioni dobbiamo stare più attenti, più determinati, più lucidi. Ma per lo sviluppo della gara la squadra ha messo in campo una prestazione sicuramente generosa, credo anche con un certo ordine, credo anche con una certa qualità. Ed è vero che nel secondo tempo siamo stati molto più pericolosi, più incisivi e abbiamo avuto, credo, 5-6 palle gol che dovevamo sfruttare meglio. Si aspetta qualcosa dal mercato domani, l'ultimo giorno di mercato? Ho già parlato di questa situazione, la società si è mossa molto bene, mi ha messo a disposizione sicuramente un ottimo organico, competitivo per quelli che sono i nostri obiettivi, che sono quelli di cercare di tornare nel ruopa. Abbiamo ancora tanti giocatori, mi auguro che domani si possa cedere qualche giocatore per non penalizzare troppo giocatori importanti. Grazie. Grazie.